Viviana Fusaro, dopo la vittoria al ballottaggio contro Adis Zatta, ufficializza la squadra di governo. È servita una decina di giorni alla compagine di centrodestra per l'individuazione delle deleghe e la distribuzione ufficiale delle stesse. Il vice sindaco è Claudio Dallapalma, si occuperà di istruzione, rapporti con le frazioni e trasporti. L'architetto Andrea Bona invece è assessore a urbanistica e lavori pubblici. Maurizio Zatta, già assessore alla protezione civile durante l'ultima amministrazione Vaccari, si occuperà ora di turismo, sport e giovani. Tiziana Penco invece curerà le deleghe legate a agricoltura, protezione civile e ambiente. Alberto Curto, già assessore alla polizia locale, ritrova questa delega insieme a sicurezza, attività produttive e innovazione. La prima cittadina Fusaro invece terrà a sé le deleghe al bilancio, ai finanziamenti europei e al personale.